Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come realizzare un piccolo olivo. Occorrente, fogli d'annuminio, stick di colla a caldo, deloxys aristata, vari rametti e secatura colorata. Procedimento, attorcigliare la carta stagnola. Ecco qua, con delle forbicette e la colla a caldo andiamo a creare la struttura dell'albero. A questo punto, con un impasto di gesto scaiola alabastrino e colla vinilica, andremo a coprire tutta la struttura. Ecco la nostra struttura ricoperta dal gesto scaiola alabastrino miscelata alla colla vinilica. A questo punto, con la colla a caldo, andremo a incollare i nostri rametti di deloxys aristata. Ecco i rametti di deloxys aristata incollati alla struttura dell'albero. Ecco, ho appena dato del marrone come colore di fondo, adesso successivamente lo andremo a sfumare con varie tonalità di tempera. Ed ecco il nostro olivo praticamente finito. Ho sfumato il tronco con grigio, nero e verde. Ho applicato la secatura colorata ai rametti di deloxys aristata e ho dato anche qualche sfumatura all'erografo color verde muschio, anche al tronco. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo tutorial.